Confermato l'arrivo dei taxi-boat anche alla Spezia, approvato anche in Giunta. Ecco, da quando è che potremo avere proprio questi taxi-boat a servizio dei cittadini e dei turisti? Beh, l'Inter si è concluso finalmente. La Giunta Municipale ha approvato il bando, quindi già da metà di questa settimana tutti coloro che sono interessati e che hanno i requisiti e che il bando poi specifica con precisione questi requisiti che occorre necessario avere potranno fare domanda. Iniziamo con due postazioni, poi vediamo che risposta c'è. Immaginare che nella nostra città ci possano essere queste imbarcazioni gialle e nere con scritto taxi e poter utilizzare anche questo nuovo sistema di trasporto via mare è veramente una bella notizia, è veramente l'idea, la suggestione della città che sta cambiando. Nel bando è stato messo un punteggio particolare, superiore, per tutti coloro che si doteranno di un natante, cioè di un'imbarcazione, a trazione elettrica, che usano invece che i normali motori marini dei motori elettrici. Questo perché? Perché l'interesse e l'attenzione nei confronti dell'ambiente deve partire anche da queste piccole cose, un punteggio superiore a chi ha appunto questo tipo di trazione. Parlando sempre di bandi, ma questa volta cambiando argomento, si sono concluse oggi la data entro la quale scadeva la possibilità di avanzare le manifestazioni di interesse per quanto riguarda il bando sull'estate spezzina. Sì, per fortuna questa amministrazione prima di uscire di scena ha voluto fare un bando per l'estate spezzina perché se no non ci sarebbe stato il tempo per chiunque vincesse le elezioni, qualunque sindaco si staurasse nella nostra città a poter realizzare l'estate spezzina. Avremmo corso il rischio che per tutta l'estate non ci sarebbe stato nemmeno un evento. Invece sarà un'estate ricchissima di eventi. Oggi alle 18 apriremo le prime buste per le manifestazioni di interesse. Vuol dire che le persone hanno avuto, le persone, le società hanno avuto una settimana di tempo per decidere se partecipare o meno a questo bando. Dopodiché hanno 15 giorni, che si sommano la settimana precedente, quasi un mese, di tempo per presentare un progetto. Un progetto che possa stabilire una grande qualità degli eventi spezzini e possa anche in questo caso una città appunto che si vuole qualificare come città turistica avere degli eventi che possono richiamare gente da fuori.